Ben trovati allo speciale TGT dedicato all'attività del Consiglio regionale della Toscana. La guerra in Ucraina con i venti bellici e i propositi di pace al centro di un incontro a cui hanno preso parte degli autorevoli ospiti per la presentazione di un libro che prende spunto dall'enciclica di Papa Francesco Fratelli Tutti. Con la guerra in Ucraina nel cuore dell'Europa e a poche centinaia di chilometri dal nostro paese, valori come fratellanza, verità e giustizia devono essere una bussola per orientare le scelte. Ne ha convinto il Presidente del Consiglio regionale della Toscana che in Sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso ha presentato il volume, curato da Lucio Romano, Vannino Chiti e Paolo Corsini, Un mondo aperto per una buona politica sulla lettera enciclica Fratelli Tutti. Ricco il parterre degli ospiti presenti, a cominciare dai due autori, Chiti e Romano, che hanno parlato di temi attuali, in primis la guerra e la libertà. La comunità a livello sociale ha bisogno appunto di dialogo, di costruzione e poi devo dire, nemmeno prevedendo evidentemente quello che poi sarebbe accaduto con la guerra in Ucraina, il titolo dato che prende in buona parte, quando riportata la lettera enciclica Fratelli Tutti, un mondo aperto, sta appunto a significare la possibilità, si lascia passare questa espressione, di una globalizzazione in positivo di valori. Il Papa dice rispetto alla triade, libertà, uguaglianza, fraternità, che naturalmente va mantenuta a un punto fermo, però gerarchizzare in modo diverso. La prima e più importante è la fraternità, perché la fraternità fa sì che la libertà non scada in egoismo individualistico e l'uguaglianza non scada in omogeneità che appiattisce tutto. Dal punto di vista della riflessione culturale e politica è molto significativo, insomma ci sollecita, come ho detto molto, il tema della pace, la costruzione di un mondo in cui le armi non facciano distruzione, non uccidano innocenti, non si aggredisca come sta avvenendo in Ucraina e si costruisca una convivenza positiva. Ci sono sollecitazioni su cui occorre riflettere, come il principio di fraternità che deve essere interpretato come fondamento della comunione a livello sociale. Il Papa sottolinea spesso questa idea di un'epoca che cambia, cioè non un cambiamento dentro un'epoca, ma un cambiamento di epoca. E quindi bisogna arrivare ben attrezzati a quello che è un futuro che ci porterà sempre nuovi problemi, sia poi in questi giorni di fronte a questa tragedia della guerra, verso la quale non possiamo che reclamare le ragioni appunto della fraternità umana e della pace. La parola di Papa, parole che toccano credo la sensibilità di tutti gli esseri umani, sono certamente rivolti ai cristiani in prima linea, ma rivolti a tutta l'umanità. Quello di tornare a parlare un linguaggio umanitario da chi rappresenta fede religiose, perché purtroppo per un po' di tempo abbiamo parlato altri linguaggi, quelli di scontri, quelli di non riconoscere l'altro e allora cancella la sua umanità, ma in questo realmente documento molto importante che rappresenta, spero, un nuovo umanesimo, una nuova fratellanza per tutta l'umanità. Attraverso quel messaggio, che è un messaggio forte, che interroga la politica, la interroga fino in fondo, nel capire come si fa ad essere fratelli tutti in un tempo in cui la guerra crea distanze, crea disuguaglianze, nel momento in cui si vedono donne e bambini scappare dalla propria terra e tanti voltano la faccia dall'altra parte. Noi abbiamo avuto in queste settimane la capacità di accogliere, ma non basta. Bisogna avere la capacità di includere, bisogna chiedere che questa drammatica guerra termini il più rapidamente possibile, perché il cuore di ogni uomo e di ogni donna è lacerato da quello che sta accadendo nel cuore dell'Europa. È il messaggio che arriva, è un messaggio così potente e attuale che mi sono sentito subito di accogliere la presentazione di questo libro e di avere un momento di confronto. L'organo legislativo regionale starebbe lavorando ad una proposta di legge per introdurre negli impianti sportivi i defibrillatori. Si terrà a Siena sabato 7 maggio la quinta edizione del premio BLSD Angel, un riconoscimento ideato dall'Associazione Siena Cuore ODV per premiare i soccorritori laici che con la loro prontezza e formazione sono intervenuti nell'anno precedente su tutto il territorio regionale, salvando vite umane grazie all'utilizzo del defibrillatore. 18 i cittadini che verranno premiati, 8 gli enti e le associazioni che hanno ottenuto una menzione speciale, una manifestazione che ha trovato il pieno sostegno del Presidente del Consiglio regionale che ha sottolineato come questa iniziativa sia un modo per dire grazie alle tante donne e tanti uomini che non specializzati si sono voluti formare per salvare vite umane. Il Presidente ha ricordato l'esperienza di un amico colpito da un infarto mentre nuotava in piscina e salvato da un addetto dell'impianto proprio grazie all'uso tempestivo di un defibrillatore. Io penso che investire in questo campo sia importante, è il messaggio che oggi vogliamo mandare anche di qui, anche dal Consiglio regionale. Io ricordo purtroppo un'esperienza vissuta da un amico, era a nuotare in una palestra, in una piscina e fortunatamente c'era un defibrillatore e fortunatamente c'era un addetto lì dell'impianto che era in grado di saperlo utilizzare. Ha avuto un infarto e è stato proprio grazie all'aiuto del defibrillatore e della capacità da parte dell'operatore di sapere intervenire se oggi è ancora insieme a noi. Lo stesso abbiamo fatto qui in Consiglio regionale, ci sono 22 tra i nostri dipendenti che sono in grado di riuscire a svolgere questo compito delicato pur non essendo esperti del settore. Il Presidente ha lanciato anche la proposta di valutare la possibilità di un finanziamento da parte del Consiglio regionale per far acquistare ai piccoli comuni che ne sono ancora sprovvisti un defibrillatore con l'intento di salvaguardare la vita delle persone che vivono in quei centri. Per il Vice Presidente di maggioranza si tratta di un'iniziativa lodevole che cresce a livello regionale e che è partita da Cuore di Siena e con riferimento al Cuore può salvare tante persone. Il Vice Presidente ha ricordato l'iniziativa legislativa che ha portato la Toscana, prima regione in Italia, ad avere una legge sull'obbligo di dotare gli impianti sportivi di un defibrillatore. Il Vice Presidente ha anche annunciato che ha lo studio una proposta di legge da presentare nelle prossime settimane per rendere obbligatorio l'uso del defibrillatore in tutti i luoghi pubblici dove la Regione Toscana è presente nei territori. È un'iniziativa lodevole che cresce a livello regionale, è partita da Siena, dal Cuore di Siena, un'iniziativa che, appunto, riferimento al Cuore può salvare la vita delle persone, un utilizzo consapevole dei defibrillatori, di un'esperienza associativa che oggi premia tutti coloro che a livello toscano si sono distinti per un gesto di solidarietà, un gesto di amore verso gli altri, un gesto che può salvare la vita a tante persone. È bello presentare in Regione un'iniziativa che ormai è cresciuta, sta diventando importante e dà una spinta a tutti noi per fare meglio, per crescere. Ricordo l'iniziativa legislativa che io guidai in Toscana, prima Regione in Italia, rispetto all'obbligo di dotare gli impianti sportivi di defibrillatore, è allo studio una proposta di legge che presenteremo in settimana prossima, nell'ambito della quale renderemo obbligatorio, se verrà accolta, questa ipotesi in tutti i luoghi pubblici dove la Regione Toscana è presente nei territori. La nostra associazione sei anni fa ha avuto questa idea, proprio nell'ambito della propria attività, che è quella di informare i cittadini della nostra realtà sull'importanza dell'intervento rapido durante l'arresto cardiaco e utilizzare, quando è possibile, il defibrillatore. Da lì è nata un po' l'idea anche di premiare in qualche modo chi, nello specifico, quei cittadini che normalmente non si occupano di sanità, ma che in caso di necessità si sono dedicati e si sono prodigati a tentare di salvare la vita ad un altro cittadino colpito da arresto cardiaco, magari utilizzando anche il defibrillatore. Da lì la nostra attività, anche supportata in particolare dal Vicepresidente Scaramelli, che ha sempre creduto in questa iniziativa, ci ha portato ad avere questo premio a livello regionale, che quest'anno vede anche un altro importante traguardo, che è quello di essere riusciti a raggiungere 18 cittadini toscani che si sono prodigati appunto nel salvare la vita ad altri cittadini e 8 menzioni speciali, che sono l'altra parte del premio, che va in qualche maniera a ringraziare quegli enti, quelle associazioni, le scuole in particolare, che si sono dedicate e hanno preso come spunto la nostra attività formando altri ragazzi e altre persone della scuola. Andiamo adesso a Vicopisano, nella provincia di Pisa ovviamente, dove sta prendendo corpo il recupero della Torre di Caprona. Ha preso il via il percorso con cui l'amministrazione comunale di Vicopisano in provincia di Pisa si pone l'obiettivo di recuperare la Torre degli Upezzinghi in località Caprona, a illustrare il progetto al Presidente dell'Assemblea Legislativa nella Sala Gronchi della Palazzina Reale del Parco di San Rossore, il Sindaco di Vicopisano e la Giunta Comunale. Abbiamo diverse idee, ho una convenzione pubblico-privata per attrarre investimenti come è successo con la famiglia Fer a Vicopisano, ipotesi di acquisto, bisogna anche capire che risorse ci sono in ballo. Come in altri casi è importante quantificare la cifra, perché pensiamo veramente che non sia una cifra irraggiungibile e con la programmazione e col lavoro si possa raggiungere anche questo che inizialmente era un sogno. La torre però è ricostruita al Tardo 800, quindi non sarà un recupero impegnativo come è stato quello per esempio fatto per il soccorso del Brunelleschi. Proprio per questo siamo fiduciosi. Chiaramente l'accessibilità è molto difficile, quindi prima dovranno esserci le indagini geologiche e sulla cava. Un progetto particolarmente apprezzato dal Presidente dell'Assemblea Legislativa che sta studiando la fattibilità di un percorso normativo in analogia con quanto già fatto per le città murate per il recupero delle rocche toscane. Pezzi di territorio che secondo il Presidente vengono lasciati un po' a se stessi e che invece potrebbero incrementare il patrimonio artistico della regione. La riqualificazione della torre di Caprona sarà un modo di restituire alle cittadine e cittadini uno dei gioielli più belli della Toscana. Lanciare un'idea, quella di cercare di trovare le risorse per finanziare la riqualificazione della torre degli Upezzinghi. Un gioiello nel territorio di Vicopisano, di Caprona, un pezzo della bellezza della nostra storia e della nostra terra. Un luogo citato anche da Dante nella Divina Commedia, un luogo che ha fatto molto discutere nel rapporto Pisani-Fiorentini, un luogo su cui dovremmo investire per guardare con speranza e ottimismo al futuro e completare quel processo di riqualificazione dell'area di Vicopisano dal camminamento del Brunelleschi alla scuola elementare per passare alla botte e arrivare alle tante torri riqualificate. Nacque l'idea di fare una legge sulle città murate, qui mi piacerebbe che nasca l'idea per aprirsi a tutta la Toscana chiaramente di sostenere e riqualificare le nostre rocche tante, le fortificazioni che hanno reso la Toscana la terra che è oggi, una terra fatta di tanti campanili, di tante differenze, ma che mette insieme storie e bellezza che la rendono unica nel mondo. La nostra è l'idea di sostenere una Toscana diffusa e fare in modo che il turista non venga solo nelle grandi città d'arte, ma vada a conoscere i gioielli del nostro territorio. Ed è tutto anche per questo numero del nostro speciale TGT. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.